Signora, deve firmare. Ho un'aria così minacciosa? Non è colpa mia. È la normale prassi. Un momento, scusi. Grazie mille. Sì, immagini. No, questo non ci voleva. Perché il 6 è in modalità di controllo? Andiamo, bello. Che succede? Niente, stia calma. Che cos'era? Oh mio! No! Tutto bene? Sto sanguinando. Sì. Oh mio Dio. È come se qualcosa mi avesse morso. Qualcuno ha qualcosa di appuntito che può averla tagliata? No! Vi dispiace se vi controllo le tasche? A me sì, e se controlliamo le sue? Che succede? Qualcosa la blocca! È inceppata! Via da me! Non vi avvicinate! Allontanatevi! State indietro! State indietro! State indietro! State indietro! State indietro! Sì! , ci sono state indietro! Che sei?